Io sono a Teglio Scienza, sono un professore universitario, ho insegnato perché devo parlare al passato ormai perché sono in pensione da un anno, anzi da un anno, sì da settembre dello scorso anno e ho insegnato a Milano soprattutto, ho fatto anche altri corsi da altre università ma soprattutto nonostante gli studi di Milano ho insegnato miglioramento genetico della vite nel corso di laurea di triennale e viticoltura di territorio nella laurea magistrale sempre di Milano che ha però con altre cinque università. Mi sono occupato sempre di viticoltura naturalmente anche facendo direi dei salti abbastanza pindarici da argomento ad argomento perché io ho iniziato lavorando in termini generali sullo stress idrico però mi ero occupato all'inizio del ruolo che può avere una sostanza ormonale nella pianta, nella vite nel controllo dell'attività stomatica quindi ho studiato per alcuni anni l'acido abscissico, sono andato in Germania, ho fatto una parte del mio dottorato in Germania e poi da lì sono partito più che altro con delle ricerche di Milano genetico, ho cominciato facendo degli incroci per ottenere dei porti innesti che sono stati finalmente nel 2014 iscritti al registro delle varietà quindi coltivabili ma abbiamo impiegato più di 40 anni per arrivarci, poi mi sono occupato di vitigni antichi di varietà autoctone, mi sono occupato di zonazioni quindi dell'interazione tra il vitigno e l'ambiente e poi tante altre cose ma sempre relative alla genetica della vite che ho insegnato anche per l'altro ma è difficile dire da cui nasce una passione, beh io devo dire che forse una caratteristica che mi ha sempre accompagnato ed aiutato che è quella della curiosità, devo dire anche quando i miei genitori mi hanno fatto fare questi studi anche da giovane proprio sulla natura hanno visto che ero molto curioso sugli aspetti non so degli insetti, degli animali in genere, delle piante e hanno capito probabilmente che la mia attività, mentre mio fratello ha fatto medicina e è diventato poi chirurgo per me hanno scelto qualcosa di molto più concreto, agricolo, l'agricoltura, ho fatto studi agricoli poi mi sono laureato alla Cattolica di Piacenza in scienze agrarie, devo dire che quando mi sono laureato non avevo le idee molto chiare di cosa fare, volevo fare un po' di microbiologia, volevo fare un po' di... poi invece mi hanno offerto una boccia di studio all'università appena lavorato per lavorare sulla vite e da lì sono partito poi lavorando sulla vite. Per me la vite però è una pianta, cioè non è qualcosa che produce vino, è una pianta, è una pianta molto interessante, è una pianta curiosa, una pianta devo dire che come tutte le piante rampicanti, come tutte le piante lianose, ha una capacità di adattamento incredibile, perché le liane sono nel reggio vegetale delle piante che hanno dovuto per loro necessità adattarsi a condizioni molto complicate, perché mentre una pianta tipo, non so, un abete o un cipresso, se la cava e cresce per conto suo, una rampicante, una liana deve attaccarsi a qualche cosa, deve sempre giocare su qualcuno che l'aiuta e quindi se quella lì per un motivo diverso poi taggiano la pianta che lo sopporta o c'è un insegno eccetera, quella pianta lì è spacciata, quindi ha messo in atto degli atteggiamenti difensivi possiamo dire, dell'idratamento straordinari, poi è una pianta, la vite, non tanto la vite svinifera, quella che noi studiamo perché fa l'uva e fa il vino, ma in genere, la vite come genere è diffusa in tutto il mondo, è diffusa dai deserti fino alle cose più fredde, è una pianta che ha accompagnato veramente l'uomo anche nei processi che sono seguiti dopo le graziazioni al Neolitico, perché bisogna pensare che la vite, che noi pensiamo sia una pianta mediterranea, non è per nulla una pianta mediterranea, è una pianta che nasce in un territorio freddo che è quello, diciamo così, che noi consideriamo freddo adesso fra la Danimarca e la Germania, quindi un luogo curiosamente fuori della nostra piche, dove però quando nasce la vite, che nasce da delle piante tropicali che erano i Cissus, era una zona come adesso sono le Bahamas, in quel periodo, siamo nell'Eocene, circa 50 milioni di anni fa, quel territorio fra la Danimarca e la Germania era un enorme atollo, con piante tropicali, animali strani, coccodrilli, eccetera, e lì la vite diventa, vite in sé, diventa genere vitis, partendo da delle piante tropicali che sono ancora esistenti, che sono i Cissus, quelle piante che ritroviamo nelle zone tropicali, in centro America, in Africa, eccetera. Poi questa pianta naturalmente ha una variabilità genetica incredibile, però quello succede è che circa 4-5 milioni di anni fa quella parte del mondo comincia a raffreddarsi e questa vite deve scappare, ma non ha le gambe, ma utilizza gli uccelli, sono gli uccelli quelli che prendono i semi di queste viti e nelle loro migrazioni portano questi semi a sud e si localizzano in genere in queste isole climatiche che sono le montagne, in cima alle montagne, perché il ghiacciaio che copriva tutta l'Europa arrivava fino a 1.000-1.500 metri, sopra non c'era niente, c'era terreno, diciamo così, vivente e gli uccelli defecavano lì e la vite ripartiva da queste zone isolate, particolari. Dopodiché con l'ultima graziazione, quella di Wurm, circa un milione di anni fa, il ghiaccio se ne va e la vite riconquista anche le zone più fredde, ritorna a nord e ritorna nelle parti basse, però è successo che delle migliaia di specie ne rimane una sola, che è la vitis vinifera, tutte le altre sono solo tracce pariontologiche, troviamo le tracce di quelle foglie, diciamo così, nelle argille, nei terreni, nei travertini, in tutte queste rocce che sono molto antiche, sono ormai fenomeni fossili. Ecco, è interessante come l'origine anche delle specie americane o asiatiche che sono ancora presenti, però è da lì. Tutto ciò che c'è adesso in Asia, in Cina, piuttosto che nella zona anche della Russia settentrionale o anche in America, nel Nord America, le 48 specie americane sono tutte nate da questo gruppo di specie che sono partite. Naturalmente lì sono tanti fenomeni, perché c'è questa bellissima storia della Beringia, la Beringia è questa terra che non c'è più, che collegava l'Asia con l'Europa, la Siberia Nord orientale con lo Yucatan, con le zone del Canada e degli Stati Uniti, si chiamava Beringia la terra. Bering è questo archeologo del Seicento che l'aveva denominata, ma allora la gente camminava. Poi con le glaciazioni il livello del mare si è alzato, il ghiaccio si è sciolto e questa terra è stata sommersa. Però questo cammino è stato un cammino importante ed è, si raccontano delle bellissime storie, ma non delle storie che sono favore, delle storie vere. Batti pensare che i primi abitatori dell'America sono stati i baschi. I baschi, sembra strano. Poi vi spiego anche perché. I baschi sono arrivati in America a caccia di foche, perché andavano a cacciare le foche che erano interessanti per la loro alimentazione, per i vestiti, eccetera. Per cui questo circa 25.000 anni fa, perché poi le documentazioni più recenti di 13-15.000 anni fa sono delle popolazioni, diciamo così, quelli della Siberia che sono arrivati in America, perché i pelle rossa attuali sono tutti siberiani d'origine. Ed è interessante, poi vi spiego il rapporto con la vite, perché ci sono tre elementi che giustificano questa vicinanza, possiamo dire, tra i popoli della della Siberia sudorientale e quelli dell'Alaska e dell'America. Il primo elemento sono le tracce, diciamo così, archeologiche. Quella che viene chiamata la civiltà di Clovis. Clovis o Clodoveo erano tutta una serie di punte di frecce e di lance scheggiate da selce che erano identiche in Europa come in Alaska. Quindi c'era questa continuità. Il secondo elemento era la lingua. In America le popolazioni indigene parlano circa 150 lingue, anche adesso. Abbiamo dimenticato questo elemento fondamentale. Però ci sono tutta una serie di popolazioni della parte alta, che riescono ad esprimere dei suoni che solamente alcune popolazioni della Siberia possono fare. Quindi c'è una continuità proprio glottologica, di rumore. Io non potrei mai imparare una lingua di quei popoli, perché non ho questa formazione delle epiglottide e della faringe, capace di fare quei suoni. Quindi solo quelli hanno questa continuità. Poi c'è l'altro elemento non trascurabile, oltre la lingua e il DNA. Tutti gli studi fatti da Forza Cavalli hanno veramente identificato tutta una serie di marcatori genetici comuni fra quelle popolazioni, diciamo quelle europee e quelle americane. La vite. Che c'entra la vite. Beh, tutte le specie che sono, diciamo così, presenti adesso all'azio salvatico in America ce ne sono molte, perché lì i ghiacciai non hanno avuto un ruolo così disastroso. Perché mentre da noi il ghiacciai, la ghiacciazione era scesa dal nord verso sud, attraversando anche le Alpi, in America le ghiacciazioni hanno corso lungo le grandi montagne, ma hanno risparmiato tutta una zona centrale dell'America, non è stata investita da questa ondata di freddo. Ma ci sono alcune fertilità, tipo il Pinot Nero, che dovreste produrlo. E quella è un'altra traccia di questa continuità genetica, tra la vitis vinifera e le specie americane. e il sapore e la fragranza che ha il Pinot Nero molto spesso nasce da quello. Il Pinot Nero è una vite, una varietà che ha una storia straordinaria. Sì, ma è straordinaria perché è l'ultimo relitto, probabilmente, di una vite rimasta isolata dalle ghiacciazioni. La storia della vita del Pinot Nero, a parte le tracce così un po' letterarie o mitologiche che sono raccontate fino all'età del DNA, era quella di questo vitigno, noto in Borgogna, che era entrato in questa storia di Costantino, quando Costantino racconta, va in questo pagus e dà a questi abitanti di questo pagus una certa autonomia e si parla di questo vitigno. Quella però è una storia molto bella, ma certamente non ha basi scientifiche, bisogna insomma immaginarsela. Invece il Pinot Nero è figlio di un incrocio, diciamo così, spontaneo, naturale, di un Pinot Nero ancestrale, di una pianta simile, ma non è il Pinot Nero, e il Traminer. L'onis venerdote per dare origine al Cardonet, che è un incrocio fra Pinot Nero o Mero, frutto di questo Pinot, diciamo così, ancestrale e del Savagnin, o questo Traminer, possiamo dire, da origine al Pinot Nero, Pinot Nero si incrocia con l'Oinis, e da lì nascolo 70 varietà europee, e anche qualcuna da noi, probabilmente la Ribolla ha quella tessa origine, ecco, ma non ci sono tante, da noi, la nostra storia varietale è completamente diversa da quella dell'Europa, è tutta completamente diversa, ma a parte quello. Ma la cosa interessante è che nel 1848, un botanico tedesco trova nell'isola di Ketsch, l'isola di Ketsch è un'isola che c'è in mezzo a Reno, queste viti selvatiche, è un'isola ancora adesso protetta, non si può entrare, è un parco proprio di conservazione della diversità della vite, c'erano delle viti colossali, selvatiche, che vivevano, erano un relitto delle ghiacciazioni, lì il ghiacciaio non le ha eliminate, non le ha distrutte, e lui dice, curiosamente queste viti assomigliavano con le foglie al Traminer, lui l'ha sparata, diciamo. Nel 2001 un ricercatore austriaco trova l'identità tra quelle viti selvatiche e il Traminer, il Traminer veniva da lì, viene da quelle viti selvatiche, il Traminer è una viti selvatica, domesticata, Traminer è una denominazione medievale, perché il nome originario è Savagnin, quello che nel Jura si fa poi, fanno i vini del Salvatino, comunque la variazione aromatica è il Traminer, ma quella non aromatica è il Savagnin, e da lì poi tutto quanto si sviluppa. Allora questa storia è una storia legata agli Orlor Broggi, questa popolazione che Cesare aveva individuato, naturalmente la storia vera è certamente quella legata a Provo, non tanto a De Bello Gallico o a Cesare, a quello che Cesare ha raccontato delle popolazioni celtiche o della Gallia, quella è molto bella dal punto di vista letterario, ma certamente non ha basi sufficienti per giustificare una storia vera della vita, ovviamente, però quello che è giustificato è Provo, che Provo è un strano imperatore, è un imperatore molto curioso perché fa parte di quella categoria degli imperatori illirici cosiddetti, dopo la fine dei Claudi con l'ultimo imperatore, Romulo Augusto, che è l'ultimo imperatore della stirpe dei Claudi, si succegono tutta una serie di imperatori che sono dei generali. Allora l'Europa romana era divisa in quattro capitali, c'era Lione, che controllava il mercato dei cereali dall'Africa perché doveva controllare i vandali, i vandali erano entrati dalla Spagna, in Africa e lì avevano preso in mano tutta la produzione dei cereali fatte dalle vecchie fattorie romani e impedivano ai cereali, al grano, di arrivare in Europa. Allora Roma stabilisce a Lione una capitale per il controllo del Mediterraneo. Poi c'è Bisantio, è l'altra capitale. Poi c'è una capitale che controlla la parte della Germania che è Treviri e poi c'è Ravenna. Questi erano le quattro capitali. Quattro capitali hanno ormai eliminato Roma. Roma non aveva più nessun ruolo. siamo nel IV secolo d.C., non c'era più nessuna. Roma come tale non ha più il controllo di questo grande impero che andava dal Vallo di Adriano fino a, non so, alla Moesia che era l'attuale Repubblica Ceca o la Persia. Era impossibile controllare a quei tempi una dimensione così grande. E allora aveva suddiviso un po'. Costantinopoli controllava la parte orientale, Lione e il Mediterraneo. I rapporti con l'est li faceva Ravenna e quelli con il nord li faceva Treviri. E in quel momento erano molto importanti generali di origine lirica. Perché? Perché Roma non aveva più legioni proprie. Aveva solo legioni di mercenari. Ed erano due le origini dei mercenari. I Celti, che erano i mercenari, diciamo così, più efficienti ma più cari anche. Volevano molti più soldi perché erano molto bravi. E dall'altra i mercenari che venivano da Oriente. Tutti i popoli balcanici. E fra cui tutte le pirole, pirole antico, eccetera. E le due giovani che erano dislocate su quei confini, come tutti gli uomini, i generali si accasavano con le donne del luogo. E Provo è figlio di un generale romano e di una serva. Provo il nome, lo dice lunga, delle dotte di questo uomo. Lui succede a tutta una serie di imperatori che avevano vita breve, dieci, otto, cinque anni perché venivano uccisi sistematicamente dalle regioni in rivolta. Però quello che noi ricordiamo Provo è perché lui arriva dopo l'editto di Domeniziano nel 98 d.C., il quale impedisce la coltivazione della vita al di fuori dell'Italia. Dunque c'è una versione, la quale, quella un po', così diciamo un po', forse meno attendibile, ma di sicuro effetto, è che la produzione italiana allora stava andando in crisi perché con il cristianesimo che si diffondeva in Europa, tutti facevano vino in Europa. Mentre prima era Roma che portava il vino dappertutto, con la famosa Dressel, questa famosa Dressel 1 che era l'ampore di riferimento nel mercato del vino romano, dopo il cristianesimo, dopo Cristo e la messa, bisognava fare vino dappertutto, uva dappertutto, solo che una cosa è fare vino per sé, una cosa è poi per la messa, una cosa è averlo. I consumi di vino erano colossali anche nella chiesa perché si faceva comunione tutti i giorni, ma la comunione era un bicchiere di vino e un pezzo di pane per ogni fedele, quindi ne andava di vino, quantità enormi. Questo però ha messo in crisi il sistema della produzione del vino, che era localizzato tra il sud di Roma e il nord di Napoli. E i commercianti napoletani hanno cominciato a fare pressione sull'imperatore, dicendo, beh ragazzi qua, se questi continuano a fare vino, noi chiudiamo la bottega. E allora lì ci sono anche spiegazioni un po' meno, un po' più prosaiche, in che senso che la crisi dell'impero era una crisi di alimentazione. Bisogna pensare che l'impero romano stava superando quella, attraversando quella che veniva chiamata la crisi climatica dell'impero. Quarto, quinto secolo, il clima è molto caldo, è molto favorevole e la vite si sposta a nord, molto a nord. Però va in crisi il sistema dei cereali, cioè gli romani non riescono più a garantire a tutti gli abitanti dell'impero grano sufficiente. Il grano veniva in gran parte dalla Sicilia, la quale però in quella fase climatica era stressata dalla mancanza dell'acqua e dal nord Africa. La nord Africa era però condizionata dai vandali. Quindi bisognava fare frumento anche al di fuori delle Alpi, a nord delle Alpi. E quindi diceva, tutte le parti migliori le avete usate per fare dei vigneti, ragazzi qua non c'è più frumento, via le vigne e piantate i cereali. E allora bisognava solo che a questo punto si restava senza vino, bisognava comprare il vino in Italia anche se la storia racconta che c'erano molti che facevano il vino clandestinalmente come del proiezionismo in America insomma, non sono rimasti a secco. Arriva Provo e Provo si trova di fronte ad una enorme responsabilità di controllare da un lato un confine abbastanza stabile che è la faglia del Reno. La faglia è una rottura della crosta terrestre che faglia vengono per fenomeni di spostamento della crosta, tettonici diciamo, per questo famoso spostamento dei continenti, no? Beh, la faglia del Reno, i fiumi vanno nelle faglie, i fiumi sono con la quantità di acqua che non viaggia a caso ma dove trova una crepa si infila e se voi conoscete un po' il Reno, il Reno ha delle coste molto alte ed è veramente molto profondo il Reno ed era facile difenderlo. Il ventre mode dell'impero, nei confronti delle invasioni barbariche, era il Danubio. Il Danubio non ha, non è, è un vino, è un fiume superficiale, è un fiume che ha moltissimi guadi, è un fiume che ha un andamento strano, va di là, poi va di là, ma dico Moesia perché la Moesia è la parte in cui ci sono più guadi e dove bisognava difendere di più il confine. Lui ha sposato una francese, provo, una quitana, veniva da Bordeaux, da Bordingala, si chiamava Faustina e la Faustina gli dice, caro il mio imperatore, i miei fratelli sono tutti quanti arrabbiati perché non hanno vino, qua bisogna che tu ti organizzi e riporti il vino. Il vitigno, lui ha una grande fortuna in quel momento, enorme, che lo aiuta. Il vino che si consumava sul Reno, da parte delle legioni, consumavano due litri al giorno di vino, ogni legionario, quindi una quantità di vino enorme, erano centinaia di migliaia, i legionari dislocati alla difesa dei confini. Quel vino veniva dal Veneto, attraverso Aquileia e saliva e andava sul Reno. Il vino lo facevano attraverso un taglio con un vino cattivissimo che veniva da Padova, dalle pianure, dalle paludi di Padova, lo tagliavano con i vini colorati del Piceno e con i vini alcolici dell'Istria e facevano un taglio per le regioni, particolare. cosa succede? Che in quell'anno in cui c'è Provo, siamo nel 198 d.C., più o meno, un'alluvione allaga tutti i vigneti al sud di Padova e tutta quella viticoltura scompare, per cui tutte le regioni rimangono senza vino. Provo prende la palla al balzo e comincia a piantare i vigneti. Lui però voleva piantare varietà italiane, coltivate del sud dell'Italia, però non funzionava perché il vino stava cambiando, ormai eravamo alla fine del cambio climatico favorevole imperiale, si va verso il freddo, quindi quelle varietà non davano vino. Lui cosa fa? Prende quei vitigni adattati, coltivati nelle regioni semiselvatici, nelle regioni della Pannonia e li coltiva prima lì e poi comincia a spostarli verso l'Occidente, anche su pressione da parte di sua moglie. Allora lui porta questi vini e cosa succede allora? Che allora si trasportavano questi vitigni ma venivano coltivati in modo quasi clandestino vicino a viti selvatiche, perché quelle erano rimaste. Questa viticoltura antica, questa viticoltura paradomesticata o antropofilo come l'abbiamo chiamata, esisteva perché non era da un punto di vista fiscale controllabile. Qui Roma non poteva impedire queste forme di produzione di vino fatto da viti paraselvatiche. Queste viti che portate da Oriente vengono piantate vicino alle viti selvatiche e automaticamente si incrociano. Cadono i semi, il processo è molto lungo, iterativo, eccetera, eccetera, e la gente comincia a selezionare altre varietà, anche sotto lo stimolo del cambio climatico che li costringe a scegliere varietà più adattate al freddo, più adattate alle condizioni diciamo così di un clima che cambia ma molto simile a quella della Pannonia, della pianura ungherese, diciamo. E lì nasce tutta questa grande viticoltura europea perché è da lì che nasce la viticoltura, nasce lo Chardonnay, i Varigamé, lo Saint-Enblanc, non so io, una settantina tra i più noti e i meno noti. Provo a una brutta fine, poveraccio, dopo quattro anni o cinque anni di imperatore viene ucciso dai suoi legionari per una cosa molto banale per la verità. Lui aveva tre legioni che erano le sue legioni di difesa, avevano il victa, la gemina prima e la gemina seconda, fatte da celti, molto venali per la verità, i celti allora erano i legionari più bastardi a quel punto di vista lì. La moneta che veniva data a questi legionari era una moneta battuta clandestinamente. La zecca ufficiale non esisteva più a Roma. Esistevano decine e decine di zecche clandestine che inventavano le monete. le monete che servivano per le legioni sul fronte tedesco venivano dalla Spagna, perché lì c'era una produzione di argento molto forte, quindi l'estrazione costava poco, l'argento non era molto caro, si facevano le monete lì con una zecca clandestina, con il conio di Roma, ma non era un conio di Roma, era un conio fasullo. Le monete poi da lì partivano e venivano, andavano. Qualche anno fa, nel fare uno scavo per una casa vicino a Verona, Bussolengo, trovano due casse, piene di monete, con il segno di provo. Qual è successo? Le monete venivano intercettate dai banditi, bloccate sulla via verso la Germania, poi sorpresi forse i banditi internano queste casse, nella speranza di tornare a prendere. Quei soldi erano quelli che dovevano pagare i soldati di Provo, le legioni di Provo, i quali, arrabbiate, ammazzano l'imperatore. La Lobrogica è una regione della Savoia. La Lobrogi vivevano in una regione fra la Savoia, la Valtellina, e si pensa che lo scira derivi dalla domesticazione di viti selvati che è fatta dalla Lobrogi. La Biturica invece sono varietà che vengono dall'Albania. La Biturica sembra che sia alla base dei Cabernet, perché c'è questa strana definizione semantica da parte di Carbonet. Allora, Vitis Carbonica. La Vitis Carbonica era questa vita che aveva descritto anche Columella, che erano destinata a fare questo vino molto particolare con un sapore gudronato, di gudron, di fumo. Diceva Columella che questa vita veniva dall'Empiro Antico, poi era passata nella zona del sud della Francia, nella zona lì diventava questo vino famoso perché veniva fatto fumicare, veniva messo il vino sopra le cucine in modo che il fumo potesse... e poi da lì, essendo il punto più stretto fra Mediterraneo e Atlantico, era passato nella zona di Bordeaux attraverso questo... erano le vini famose della Narbonnesa, le vini di Narbonne, però il vitigno era originario Vitis Carbonica Carbonet Cabernet. Questo era l'arrivo del nome, insomma. Vitis Biturica perché era la regione dei Biturici, era la regione della... però, sì, può essere vero fino a un certo punto, ma è molto poi più difficile, adesso con le analisi del DNA, che i marcatori molecolari sia microsatelliti che SNP, le cose sono cambiate in modo sostanziale, proprio anche perché ci sono trovati molti vitigni di riferimento, tutti gli incroci, Cabernet Sauvignon, incrociato da Cabernet Franc e Sauvignon, tutti i vini baschi, tutti i vitigni che vengono dalle regioni basche, insomma, lì c'è tutta una... c'è ancora poca chiarezza su quell'origine, anche perché i baschi, come dico, sono andati da fare molto nei viaggi, sono andati in Georgia, la lingua basca è molto vicina alla lingua georgiana, non sono mai stati occupati dalle migrazioni di Gurgam, dalle grandi migrazioni di Gurgam, sono rimasti estrani ai grandi cammini arrivati dalla steppa, insomma, i baschi sono un po' particolari e questi vitigni baschi hanno probabilmente un DNA molto particolare, molto diverso da tutti i vitigni europei, è un'isola genetica autonoma che non ha connessione con la Spagna vicina o con la Francia vicina, è proprio una cosa diversa. Dicevo che ci sono stati in questi mesi, proprio, notevoli sviluppi nella ricerca dell'origine delle varietà, soprattutto si sono chiariti alcune origini fondamentali di quelli che vengono chiamati i vitigni fondatori. Noi abbiamo in Italia alcune varietà che sono fondatrici, dalle quali sono partite centinaia e centinaia di varietà. E questi vitigni fondatori sono in gran parte vitigni del sud Italia. Poi attraverso il Cammino Adriatico e il Cammino Tirrenico si sono spostati progressivamente verso nord. Ma hanno una localizzazione, diciamo che dalla Magna Grecia, a parte della Campania, la Calabria e la Sicilia. Noi abbiamo sempre così studiato il fenomeno delle immigrazioni legandolo essenzialmente all'ipotesi fatta dalla Jim Butas, che è questa ricercatrice americana di origine lettone, la quale aveva ipotizzato che tutto ciò che noi abbiamo di agricoltura in Occidente è arrivato da Oriente attraverso l'immigrazione dalla steppa, le tre grandi immigrazioni di Gurkham. Chiamano Gurkham. Gurkham sono questi cumuli funerari che si trovano lungo questo cammino dalla steppa a noi dove venivano sepolti tutte le persone che morivano sia di morte naturale ma anche per effetto delle guerre e quindi questi cumuli si trovano ancora in Turchia, in Anatolia, ce ne sono molti di questi cumuli pieni di macerie. Lei diceva che il cane, il cavallo, l'aratro, la varietà, sono tutti il frumento, tutte derivate da questi viaggi. A questa teoria, diciamo così, invasionistica viene chiamata, si oppone un'altra ipotesi dell'antropologo americano, inglese, il quale dice, no, si, in effetti molto è arrivato ma molto c'era già e questa è un'ipotesi, possiamo dire, nazionalista, più autoctona, ecco. e in effetti, probabilmente, quello che noi abbiamo di agricoltura è frutto di questo incontro, di questo incontro fra Oriente e Occidente. C'è però una, diciamo così, una migrazione che è poco nota, che è apparentemente più recente, perché risale tra l'età del bronzo antico, quindi siamo circa sull'ordine dei 5-6 mila anni prima di Cristo, che è la quarta migrazione cosiddetta, la quale ha un'origine molto precisa. Le migrazioni, andrebbe spiegata bene perché si muovono queste popolazioni, avevano essenzialmente una radice ambientale, climatica. Le grandi crisi climatiche che avvenivano nei grandi fiumi, non so, nelle zone del Tigre, dell'Eufrate, del Caucaso, provocavano degli spostamenti enormi di persone che andavano verso zone dove potevano continuare a vivere, perché quei cambi climatici provocavano molto spesso fenomeni di desertificazione. Quindi, dalla sera alla mattina, uno di questi fenomeni e la più grande catastrofe che era storia, ricordi, è quella del diluvio storico. Verso questo più o meno, questi 5-6 mila anni prima, lo descrive la Genesi con Noè e lo descrive il libro di Gilgamesh per la parte Itita. Questi due scrittori, diciamo così, testimoni, raccontano qualcosa che è avvenuto molto prima, loro lo descrivono molto più vicino a noi, però è una storia che si ripeteva nel racconto delle generazioni di questo fenomeno. Cosa era successo, in sostanza? Che per effetto del scioglimento dell'ultima glaciazione, l'ultimo ghiaccio, il Mediterraneo aumenta di altezza e l'acqua attraverso il Bospolo occupa il Mar Nero. Il Mar Nero era un lago dolce, era chiuso, diventa un mare salato. Ma non solo, il Mar Nero è alimentato da tutta una serie di fiumi potenti, Danubio, di Nieper, di Niester, Volga, tutti questi fiumi, per effetto del scioglimento della calotta, versano, riversano in pochissimo tempo, masse di acqua spraventose. Il Mar Nero cresceva di 8 cm al giorno ed è, si è alzato a 90 metri dal livello iniziale. Tutte le coste attorno, tutte le lagate, tutta questa gente è scappata. Questa migrazione è venuta in Italia. Si chiama la quarta migrazione. Questa migrazione è riconoscibile perché ha lasciato nella popolazione italiana, questo è uno studio recente di un gruppo di antropologi italiani, della Sapienza, ma con altri, direi così, coautori di altre università mondiali, trovando moltissimo DNA caucasico in quello italiano. e con loro sono arrivate moltissime varietà. Allora, quale è successo? Che molti vitigni sono arrivati in occidente, si sono incrociati spontaneamente con varietà, con piante paradomesticate, dando origine a tutta una serie di nuovi vitigni vitigni, poi selezionati. Chi ha operato le selezioni però? Perché ci vuole una cultura a fare la selezione. Perché una cosa è il fenomeno naturale dell'incrocio spontaneo. L'altro fenomeno è quello dell'azione dell'uomo che sceglie. L'uomo che sceglie ha una sua personalità, ha una sua psiche, ha una sua visione del mondo e di quello che lui mangia. Quindi è l'antropologia che fa la differenza. Ora, una cosa è un popolo, una persona che veniva, non so, per esempio da Atene, una persona che veniva dall'Epiro, una persona che veniva da Turchia, cioè queste persone che sono arrivate, che sono installate, hanno espresso una capacità di selezione molto particolare, molto diversa. E questa selezione veniva alimentata dal mito. E qui parte l'altro elemento fondamentale che è determinante nella nascita delle varietà. Allora, le migrazioni, il cambio climatico sono i motori, diciamo così, della spinta, quelli che determinano i grandi cambiamenti. Poi queste popolazioni che arrivano portano con sé vitigni, ma anche una cultura di fare il vino. Però non è sufficiente, ci vuole qualcosa di più, perché il vino non è un alimento. Il vino ha un potere catarico fantastico, il vino è qualcosa che va al di là, il vino è uno strumento di mediazione con la divinità. E allora il mito ha svolto il ruolo fondamentale della scelta. Sono i miti legati ai nostoi. Sai quali sono i nostoi? In greco nostos vuol dire ritorno. Sono le leggi di ritorno dalla guerra di Troia che sono raccontati dall'Odissea. Quale è successo? Circa nell'VIII secolo a.C., in Grecia abbiamo quello che viene chiamato il Medioevo greco, un periodo di carestia formidabile. Crollano le due grandi civiltà, quella cretese e quella minoica. I dori, i persiani spingono da Oriente e quindi la Grecia si trova in una situazione drammatica dal punto di vista alimentare e demografico. Nasce quello che viene chiamata l'invasione dell'argento del mare. Cioè popolazioni di origine curiosa, diversa, che cominciano a occupare spazi ad occidente, che non erano mai occupato ma non hanno fatto per poter sopravvivere. In particolare due tipi di cultura si instaura. Quella cosiddetta, diciamo così, dell'Emporion, gestita dai Focesi. I Focesi erano le abitanti di quella città che c'era sopra Troia, che erano però dei grandi navigatori. Andavano con navi molto pesanti, con 4-5 ordini di remi. Loro andavano, dovevano per forza, arrivare alla foce di un fiume. Quindi ecco sul Rodano, sul Po, su Qodakivir, perché avevano navi che pescavano molto. Questa era un'invasione tipo culturale. Loro portavano vino, portavano la cultura del vino e portavano via pelli e carne secca, che trasportavano e portavano in Grecia. Ma poi c'è l'altra, diciamo così, l'invasione, che è quella coloniaria. Quella di Liubei. L'isola di Liubei è questa isola a oriente della Grecia, quella isola molto lunga che c'è al fianco della Grecia, continentale. Che era famosa perché era abitata da grandissimi navigatori, perché erano gli unici che potevano navigare contro vento tra la Grecia e l'isola. Quindi erano navigatori formidabili. E Liubei sono stati quelli che hanno colonizzato, ad esempio, la Campania e Ischia. Ischia è la prima colonia eoboica in Italia. Il famoso calice di, diciamo così, i resti trovati di queste loro presenze sono formidabili perché loro avevano una ceramica con, sul collo avevano questi archetti che erano riconoscibili perfettamente. Dove arrivavano si trovavano sempre quei resti di queste ceramiche. Allora, cos'è l'Odissea, in sostanza? Non è un racconto mitologico fatto o da Ulisse, o da Omero, o dai suoi, o da quelli che loro chiamavano i cantori di Aedi. Gli Aedi andavano in paese in paese a raccontare le gesta degli eroi. Sì, anche quello è il problema. La cosa più importante è che Omero ha scritto un libro di viaggi. Lui ha indicato tutte le tappe per cui potevano gli abitanti euboici arrivare in occidente. Dove è arrivato Ulisse, dall'isola di Eulo ai pascoli del sole sull'Etna ai territori dei campi fregrei eccetera eccetera. A parte il fatto che tutti avevano una matrice vulcanica che era molto interessante dal punto di vista anche culturale e anche religioso, la presenza della divinità nel vulcano. Ma quello che conta è che lì erano luoghi dove loro trovavano un ambiente fertile per fare agricoltura. E cosa serviva questa storia di questi viaggi? Serviva a esorcizzare le paure delle ciurme. Le ciurme delle navi euboiche che affrontavano un mare ignoto dovevano avere un specie di manuale di viaggio. E l'Odissea era il manuale di viaggio. Se è arrivato Ulisse lì, arriviamo anche noi. E i luoghi dove sono descritti dall'Odissea sono perfettamente identificabili con i luoghi della presenza euboica perché in tutti questi luoghi sono trovate ceramiche di quel tipo. In tutti. Quindi vuol dire che loro sono arrivati dopo il mito. Il mito di Ulisse è servito a loro come una specie di guida di viaggio per arrivare dove volevano arrivare. Questa è la cosa fondamentale. Questo è lo spazio tirrenico. C'è poi lo spazio Adriatico però. Mentre l'eroe guida nel Tireno era Ulisse, l'eroe guida dell'Adriatico erano Diomede e Dantenore. Nel racconto dei Nostoi c'è la tragedia greca perché erano tutte persone che tornavano dalla guerra di Troia ma tutti avevano incontrato grandi difficoltà. Agamemnon torna dalla guerra di Troia e viene ucciso dall'amante della moglie, di Tenestra. Ulisse se la cava per rotto della cuffia. Arriva e trova i proci e se non se la cava per la sua abilità di arciere lo fanno fuori. Antenore e Diomede vengono avvertiti in tempo di non tornare a casa perché li avrebbero ammazzati anche loro. E loro vagolano nello spazio Adriatico. Antenore è il fondatore di Padova. Padova è centrale di Antenorea. Ci sono moltissimi luoghi lungo la costa sia orientale che dell'Adriatico dove c'è ancora il mito di Antenore. E se Ulisse è l'eroe guida del Tireno, Antenore è l'eroe guida dei Greci nell'Adriatico. Se noi andiamo a vedere adesso ancora, i Greci in Adriatico non sono mai arrivati però sulle coste italiane. Perché le coste italiane si prestavano poco all'arrivo delle navi perché erano coste sabbiose, erano difficili da traccare. E poi c'erano popolazioni molto aggressive, specialmente nella parte della Pugna. c'erano i Peuceti, c'erano i Dauni, i quali erano di origine balcanica e lirica e non consentivano i Greci di arrivare. Quindi loro si sono inseriti o nell'arco ionico, Taranto, all'interno, oppure sono andati sulla costa orientale, la Dalmazia, l'Albania, la Grecia anche. E da lì poi sono sbarcati a nord di Ancona e sono arrivati poi sul Po. Po, la zona di Adria e Espina, erano due emporium famosissimi dei Greci, dove i diatruschi in ultime fasi portavano il ferro per poter portarlo poi in Grecia. Ma a parte quello, moltissimi vitigni sono arrivati anche da lì. E ancora adesso noi con il DNA, dicevo prima, troviamo grandissime analogie tra il DNA di tutte queste varietà coltivate sulle coste balcaniche e i nostri vitigni. Ci sono addirittura identità perfette genetiche, chiamate con nomi diversi. Ci sono vitigni che hanno quattro cinque nomi, ma sono una stessa cosa. Proprio perché li hanno chiamati in Albania, in Grecia, in Istria, con nomi diversi ma sono tutti su vitigni. Tutti di origine orientale, greca praticamente.